Avevamo concluso il video precedente dicendo che Hegel definisce questo un diritto astratto, in quanto gli individui sono legati tra loro da rapporti esterni e quindi non profondi. Passiamo alla moralità. Questo era il diritto, quindi la prima fase dello spirito oggettivo. La seconda è quella della moralità. Quindi nell'ottica dialettica che conosciamo bene, il momento successivo al diritto sarà allora dato da una ricerca dell'interiorità profonda. Approfondiamo, approdiamo così alla moralità. Sia il diritto sia la moralità sono però incompleti e insoddisfacenti, in quanto il diritto trascura l'interiorità e la morale trascura l'esteriorità. Il momento della sintesi, quindi il terzo momento dello spirito oggettivo, quindi il primo diritto secondo la moralità, il terzo è l'eticità. Quindi procedendo nel processo dialettico arriviamo alla sintesi che si ottiene con l'eticità. di cui Hegel ha già parlato nella fenomenologia. L'eticità spiega Hegel il momento in cui l'individuo trova la sua realizzazione soggettiva nell'essere inquadrato in una collettività, in cui contano sì i rapporti esterni, ma non viene per questo trascurato il senso soggettivo e individuale. Esempio di eticità è l'individuo che trova la propria realizzazione nella sua attività lavorativa, realizzando in essa se stesso come singolo calato in un contesto collettivo. L'eticità si articola a sua volta in tre momenti, in ciascuno dei quali l'individuo trova la sua specifica collocazione all'interno di una struttura collettiva. Questi tre momenti sono la famiglia, la società civile e lo Stato. La famiglia è la più immediata e naturale forma di eticità, in quanto altro non è se non l'unione dei sessi, istituzionalizzata dal matrimonio per la creazione e l'allevamento della prole. In un secondo momento però i figli divenuti adulti si distaccano dalla famiglia nella quale sono nati per crearne una nuova o per vivere da soli. Siamo di fronte, dice Hegel, all'antitesi rispetto alla famiglia, in quanto queste sono situazioni atomiche, cioè singoli individui o molecolari, cioè nuove coppie di individui. E da ciò scaturisce dialetticamente una nuova eticità, ovvero un nuovo modo di rapportarsi tra individui e collettività. Il secondo punto è la società civile. Gli individui intrattengono tra loro quei rapporti tipicamente legati all'interesse personale, ad esempio chi fa il pane avrà bisogno di chi fa le scarpe e viceversa, sicché si instaura una rete di relazioni in cui il singolo si rapporta con la collettività per trarne un giovamento personale. Questa nuova eticità, cioè la società civile borghese, sarà quindi puramente esteriore e mediata dall'interesse. Il terzo momento dell'eticità è dato dallo Stato. Dalla società civile si passa quindi allo Stato e notiamo come già nella società civile sono presenti elementi che anticipano la nascita dello Stato, come ad esempio le corporazioni di epoca medievale. Con una terminologia usata a suo tempo da Hobbes, Hegel definisce lo Stato come Dio in terra. Ma mentre per Hobbes l'espressione voleva dire che i beni maggiori l'uomo può aspettarseli in primo luogo da Dio e poi dallo Stato, per Hegel affermare che lo Stato è Dio in terra significa che esso lo Stato, rappresentando il culmine dello spirito oggettivo, è lo spirito che si oggettiva nelle istituzioni. È importante a questo punto sottolineare che ci troviamo ancora all'interno della sottotappa dell'eticità. Quindi lo Stato di Hegel è uno Stato etico, in cui cioè l'individuo è pienamente integrato nella collettività e non esiste pienamente all'infuori della dimensione statale, vista come un grande organismo pulsante in cui le parti contano solo in funzione del tutto. Anche lo Stato, che rappresenta l'ultimo momento dell'eticità nello spirito oggettivo, ha un suo sviluppo dialettico in tre momenti, la costituzione dello Stato, il diritto statale esterno e infine la storia universale. Vediamoli velocemente. Allora la Costituzione dello Stato. Nell'ambito della Costituzione dello Stato, Hegel si esprime a favore della monarchia costituzionale, che rappresentava la forma di governo più avanzata all'inizio dell'Ottocento. Ritiene che la classe suprema sia quella dei burocrati, in quanto rappresenta un ottimo esempio di eticità hegeliana. Infatti, mentre tutte le altre classi hanno interessi privati distaccati da quelli statali, nei burocrati la funzione statale e quella privata coincidono. Sicché un burocrate che svolge il suo lavoro e persegue il suo interesse, immediatamente persegue anche l'interesse dello Stato. La seconda fase è quella del diritto statale esterno. Dopo aver esaminato lo Stato nella sua interiorità, il solito ribaltamento dialettico porta Hegel ad esaminarlo nella sua esteriorità. Il diritto statale esterno, infatti, riguarda i rapporti di uno Stato con gli altri Stati. In quanto espressione suprema dello spirito oggettivo, ogni Stato, per Hegel, è legato esclusivamente alla sua sovranità e non può riconoscere al suo interno quella di altri Stati. Il diritto statale esterno potrà quindi esistere solo nella misura in cui gli Stati si accordano tra loro stipulando alleanze o trattati senza imposizioni dall'esterno. Sorge a questo punto una domanda. Cosa succede in caso di controversie tra gli Stati? Se Kant aveva ipotizzato la creazione di una confederazione di Stati che fungesse da arbitro, Hegel sostiene che l'unico modo per risolvere le contese tra Stati è la guerra. Il tribunale in cui avvengono i processi è dunque la storia che Hegel definisce giudizio universale. Entriamo così nel terzo momento dello Stato costituito dalla storia universale. Per Hegel la storia è la manifestazione dello spirito, ovvero l'umanità nel suo insieme e la guerra è il giudice della storia stessa. Questo implica che non solo con la guerra vince il più forte e soccombe il più debole, ma dal momento che tutto ciò che è reale e anche razionale, compresa la storia, allora la filosofia dovrà partire dalla convinzione che di fronte a una guerra è necessario sostenere sia che il più forte aveva ragione perché ha vinto, sia che il più forte ha vinto perché aveva ragione. Ciò implica che per Hegel tutto ciò che avviene nella storia è giusto che avvenga in quanto espressione della razionalità. In questo momento del discorso hegeliano l'attore della storia è lo spirito oggettivo, che nella sfera della storia Hegel chiama spirito del mondo. Così come ogni individuo ha il suo spirito, allo stesso modo il mondo ha anch'esso un suo spirito, una sua anima umana che si manifesta di volta in volta in popoli diversi. Molto bene questo è tutto, come sempre vi ringrazio tantissimo per la vostra attenzione, spero che questi video vi siano utili e vi faccio un grande in bocca al lupo per i vostri studi e per i vostri... Alla prossima! Alla prossima!